Buonasera dalla TGR della Puglia, la decisione attesa da mesi, quella del governo sul destino del Consiglio Comunale di Foggia. Le verifiche sulle pressioni della malavita ora fanno slittare la data del voto. Per le amministrative ci spiega tutto Fulvio Totaro. La scossa definitiva arriva dal Consiglio dei Ministri. Il Consiglio Comunale di Foggia è sciolto per il rischio di condizionamento dell'attività amministrativa da parte delle organizzazioni criminali. Lo confermano fonti del governo. Dopo cinque mesi di indagine è arrivato sul tavolo del Ministro dell'Interno il risponso della Commissione incaricata di valutare le infiltrazioni della malavita. Da fine maggio si era già insediato un commissario prefettizio in seguito alle dimissioni del sindaco Franco Landella arrestato con le accuse di tentata concussione e corruzione. Altri quattro consiglieri comunali della maggioranza di centrodestra erano indagati per corruzione. Tra loro anche l'ex presidente dell'Assemblea Leonardo Iaccarino sfiduciato dal Consiglio dopo il video in cui a Capodanno sparava pistolettate a salve dal balcone di casa. La decisione del governo provoca il rinvio delle elezioni che non si terranno il primo weekend di ottobre.